Luca Di Blasio alla Dimatic Service Group, una bella realtà della provincia di Benevento, qui si lavora con il caffè soprattutto. Abbiamo un'azienda di distributori automatici di bevandi alimenti che forniamo tutto il territorio di Benevento, Caserta ed Avellino, un'azienda di circa 40 anni, inventata dall'epoca da nostro padre e nostra madre, poi siamo due fratelli, chi si occupa della parte tecnica è mio fratello Dario e chi si occupa della parte commerciale che sono io. È un'azienda abbastanza giovane, nel senso giovane come persone noi giovani, dipendenti giovani, è un'azienda che cresce. Un'azienda che ha avvertito nel tempo ha la necessità di abbattere i consumi, un'azienda magari anche energivora. Certo, è un'azienda strutturata da un anno con la conoscenza della Simac, una bella azienda, una bella realtà, abbiamo fatto 20 kilowatt di energia con pannelli fotovoltaici con degli accumuli Tesla e ci troviamo benissimo. Da un anno ci troviamo bene, abbiamo avuto un bel risparmio per la nostra azienda che ancora tutt'ora si avvale solo di energia elettrica. Un'azienda che ha ottenuto un risparmio importante, sei in grado anche di quantizzare in percentuale l'abbattimento dei consumi? Un 60% di risparmio sui consumi totali di tutta l'azienda, da quando abbiamo fatto questo investimento sui pannelli fotovoltaici. Come hai conosciuto Simac e come valuti l'esperienza con questa azienda? Simac l'abbiamo conosciuto, avevamo questa idea di poter fare l'impianto di pannelli fotovoltaici, avevamo già delle altre aziende, poi con la fortuna che abbiamo conosciuto Simac, con la loro professionalità, abbiamo avuto un rapporto di collaborazione iniziale, l'abbiamo portato a termine, siamo soddisfatti. Consiglieresti quindi Simac ad aziende come la tua o magari a privati che vogliono abbattere anche i consumi a casa? Dalla nostra esperienza sì e le confido che pure a casa direttamente con la Simac abbiamo fatto un casa da me, un impianto da 8 kilowatt con l'accumulo Tesla e anche lì ci troviamo benissimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.